Il Manfredonia impatta 0-0 allo Stadio Novi di Angri, nel recupero della terza giornata di campionato. Lo scorso 22 settembre la gara venne sospesa per l'infortunio all'arbitro. La partita ripresa ieri dal ventitresimo minuto è stata tutto sommato dominata in lungo e in largo dai biancocelesti. E sul risultato finale pesa anche un gol fantasma, non convalidato dal direttore di gara, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Calemme. Pallone che va direttamente nello specchio della porta, col portiere che la toglie ma quando la sfera era già dentro. Una scelta arbitrale che ha fatto discutere, e diciamo anche andare su tutte le furie, i dirigenti biancocelesti. Amarezza e rabbia in Casadonia per questo episodio. Le dichiarazioni in merito di Livio Scotto al termine della partita sono state particolarmente dure. Il direttore sportivo ha chiesto alla società di farsi sentire ai livelli alti. Una cosa vergognosa, dice, una rete che tutti hanno visto e alla fine c'è stata anche la mia espulsione per aver detto che era gol netto. Scotto comunque si è complimentato con la squadra per una grande partita che meritava di vincere, dice sempre lo stesso di esse. Si continì che dopo il pareggio di ieri pomeriggio salgono a quota 4 in classifica, la testa ora e già domenica prossima per l'incontro al Miramare contro la Nocerina. Bisogna recuperare energie mentali e fisiche per fare bene anche con la corazzata campana contro cui non sarà facile. Infine si attende in giornata la nomina del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto dell'esonerato, Franco Cinque. In realtà il plauso va ai ragazzi, i merdi ragazzi che hanno giocato con umiltà, con grinda e hanno portato a caso questo pareggio che è un pareggio stretto. Ripetiamo la partita qui ad Angri dopo l'infortuno dell'abito di 15 giorni fa e questo già ci bisogna spiegare alla Lega che il campionato Serie D è un campionato a livello professionistico per gli investimenti che si fanno, per i soldi investiti e quindi ritrovarsi con 6 partite in un mese diventa difficile anche programmare. Ma a questo togliamo perché si supera, la rosa c'è, però in realtà oggi se quello che abbiamo visto è un gol tolto a Mavredonia vuol dire che è stato scippato un risultato. Ma scippato un risultato a questi ragazzi. Io penso che Mavronia Calcio non merita questo trattamento, perché se poi vado dietro e vedo quello che è successo con il Matera, due rigori non dati, quello che è successo domenica scorsa dove Scaringella ha squalificato otto giornate, non so per cosa ha fatto, quindi tutta questa situazione di attenzione con una squadra che sta dimostrando sia sul campo che a livello societario e che veramente vuole essere l'esempio per un campionato difficile, allora a questo punto mi viene da porre la domanda dei vertici della Lega, della Nazionale del Carcere Tattistico, di mantenere attenzione per queste situazioni.